Signore e signori, quest'oggi è la fine della psicologia in Italia. E sarò sincero, io non me l'aspettavo, anzi mi ero addirittura illuso. Illuso che si potesse finalmente iniziare a trattare la salute mentale come quella fisica. Illuso che rimanere con noi stessi per tre mesi potesse far capire la necessità del prendersi cura della propria psiche e del fatto che non sappiamo assolutamente nulla di come farlo. Illuso che bastassero i suicidi, i disturbi d'ansia e questa forma di depressione malcontento nazionale a far carpire l'esigenza di nuove bussole sociali e morali fondate anche sulla psicologia. Avevo addirittura iniziato a immaginare. Immaginare lo psicologo di base per permettere a tutti e non solo ai ricchi di migliorare la propria vita. Immaginare una scuola in cui si educasse al benessere mentale, alle emozioni e all'empatia. Immaginare una ristrutturazione sociale fondata sul riconoscimento dei propri bisogni psichici e delle proprie fragilità e di quelle del prossimo. Proprio perché quel prossimo siamo noi. Ma sono costretto oggi a definire tutti questi possibili progetti come stupide immaginazioni. Perché oggi, giovedì 14 maggio 2020, è il giorno della più grande, vergognosa, sconfitta mai subita dalla psicologia in Italia. Oggi è stato istituito che dopo tre mesi di quarantena, dopo tutte le sofferenze psicologiche affrontate e dopo quelli che sono gli scenari di un futuro che richiederà più di ogni altra cosa una grandissima preparazione psicologica, dei 55 miliardi destinati alla ripresa del paese neanche un singolo e bucato centesimo verrà destinato agli interventi per i bisogni psicologici dei cittadini. Questo è un gigantesco dito medio che non è rivolto solo agli psicologi ma proprio a tutta la popolazione, nonché una perfetta rappresentazione dello stato in cui versa la nostra società. E non possiamo neanche dare la colpa ai politici o agli ordini professionali per tutto questo. E se proprio volessimo trovare un responsabile, allora dovremmo tutti, dal primo all'ultimo, guardarci allo specchio. Perché noi già non facciamo vincere la psicologia ogni volta che permettiamo al denaro o al potere di governare i nostri ideali. Non lasciamo vincere la psicologia ogni volta che decidiamo di sforzarci a sembrare felici sui social piuttosto che impegnarci ad esserlo nella vita vera. E non lasciamo vincere la psicologia ogni volta che decidiamo di affrontare un problema solo quando questo è diventato troppo imponente per poter continuare ad ignorarlo. Io lo so che la mente non attira come il corpo, che la salute psichica non è messa al pari di quella fisica e che tutto quello che c'è qui dentro è ancora visto come qualcosa di fatuo. Ma essere umani significa comportarsi da umani. È considerato che c'è una sola scienza che si occupa dei nostri comportamenti e pensieri anche prima che questi possano diventare disfunzionali e questa è la psicologia, allora abbiamo il dovere di chiederci dov'è che andremo a finire continuando ad ignorarla. La salute psicologica è un diritto.